Sarà affidato martedì prossimo l'incarico al medico legale Biagio Solarino per effettuare l'autopsia sul giovane di 22 anni di Andrea, morto mercoledì 22 luglio nell'ospedale Bonomo. L'autopsia sarà effettuata nella stessa giornata. Lo ha deciso il PM della procura di trani Luigi Scimè, a cui è affidato il compito di coordinare le indagini relative al decesso del ragazzo, il quale per una probabile febbre che aveva già da qualche giorno sarebbe arrivato in ospedale in ambulanza lo scorso martedì 21 luglio in codice rosso con febbre altissima. Dopo essere stato trasferito nel reparto di rianimazione del Bonomo ed essere stato sottoposto alle necessarie cure, il giovane non ce l'ha fatta ed è morto in seguito ad un arresto cardiocircolatorio il giorno dopo. Nella giornata di martedì 28 luglio avrebbe dovuto essere effettuata l'autopsia disposta dalla ASLBAT per prassi, ma la denuncia dei familiari del ragazzo sporta i carabinieri di Anderea una settimana dopo il decesso ha bloccato l'iter poiché nel frattempo è stata aperta un'inchiesta dalla procura di trani.